Ciao bellezze, in questo video vi mostrerò la realizzazione di un make up facile e rapidissimo, realizzabile anche in 5 minuti, adatto per il ritorno a scuola o a lavoro. Tendo come fondotinta su tutto il viso il nuovo 24 ore extra cover, fondotinta e correttore 2 in 1 firmato Deborah Milano. Lo utilizzo non solo come base ma anche come correttore, utilizzando la tonalità più chiara per realizzare i miei punti luce. Questo fondo ha una coprenza medio alta ed è a lunghissima tenuta. Il risultato infatti è una base perfetta con zero imperfezioni. Inoltre questo fondo possiede un effetto pore minimizer immediato e anti sebo, di fatti è adatto anche per pelle mista. In aggiunta all'SPF 20 è un attivo antinquinamento che protegge la pelle dai raggi UV e dagli agenti esterni. La texture liquida e l'applicatore di precisione inoltre facilitano l'applicazione su tutto il viso e sulla zona del contorno occhi. Opacizzo il tutto con una cipria e successivamente vado a stendere l'illuminante sugli occhi. Ovviamente indispensabile il mascara, per me è assolutamente uno di quei prodotti immancabili in un makeup basic di questo tipo. Ultimo il mio makeup viso con un po' di blush, prima luminoso e successivamente opaco. Vado a stendere la seconda passata di mascara per andare ad accentuare l'effetto volumizzante sulle ciglia. Un po' di illuminante, una matita che contorna le labbra. E infine l'applicazione di un rossetto nudo, leggermente sheer e ad alta idratazione, perfetto per un trucco giorno. Et voilà! Ed ecco il makeup completato, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!